ciao a tutti sono paola castelli e sono la titolare della pen cosmetic ben trovati per la nostra consueta rubrica oggi voglio dare un consiglio di bellezza molte delle mie clienti mi dicono paola sono pigra non mi strucco non uso mai il latte detergente figuriamoci il tonico non so cos'è ea che cosa serve bene inizio questo consiglio raccontandovi un aneddoto dovete sapere che le donne coreane vengono definite donne dalla pelle di porcellana ma non perché usano l'ultimo make up straordinario il correttore stupefacente ma perché hanno una cura maniacale della loro pelle soprattutto quella del loro viso allora è indispensabile avere una beauty routine mattina e sera che vi occupa un minuto ma è necessario farla tutti i giorni e con costanza il nostro latte detergente non solo toglierà i residui di trucco qualora ne usaste ma andrà a togliere tutte le impurità che lo smog e gli agenti atmosferici lasciano sulla nostra pelle e anche le cellule morte quindi è indispensabile applicarlo mattina e sera con un batuffolo poi potete anche risciacquare la vostra pelle lavandola con l'acqua ma subito dopo è non ho detto che il nostro latte detergente essendo che è naturale non vi farà strizzare gli occhi successivamente dovrete usare il tonico il tonico essendo a base di aloe vera andrà a lenire tutte le infiammazioni della vostra pelle quindi nel giro di un mese renderà la vostra pelle molto più compatta e luminosa inoltre se avete una pelle grassa porterà a regolarizzare la produzione di sebo se avete una pelle secca riporterà in superficie l'acqua e vi lascerà una piacevole sensazione bene dopo il tonico metterete una o tre gocce a secondo del vostra se la vostra pelle è secca o grassa del nostro olio d'argan puro e la crema più adatta al vostro viso quella idratante qualora foste giovani o avete la pelle grassa e quella anti-age qualora la vostra fosse una pelle matura bene spero di avervi convinto a dedicare un minuto del vostro tempo mattina e sera alla beauty routine del vostro viso vedrete che fra un mese vedrete la vostra pelle molto più compatta e luminosa un bacio e a presto ciao grazie a tutti